Suolo pubblico gratuito per l'occupazione straordinaria di spazi aggiuntivi di suolo per i pubblici esercizi. La Giunta Comunale di Viareggio ha approvato l'atto che dovrà essere poi portato all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale. In sostanza, a partire dal 15 aprile prossimo e fino al 31 dicembre 2022, le attività potranno richiedere fino al 50% di suolo pubblico in più rispetto a quello già concesso. La superficie aggiuntiva sarà esente dal pagamento del canone patrimoniale di concessione. Il regolamento, una volta approvato dal Consiglio, sarà valido sull'intero territorio del Comune di Viareggio. Non potranno ottenere questa concessione quelle attività che alla data di presentazione dell'istanza siano state oggetto di almeno due contestazioni di violazione da parte della Polizia Municipale a seguito di occupazione di suolo pubblico abusivo. Un provvedimento che ha riscosso il applauso dell'associazione di categoria. Certamente, si legge in una nota di Confcommercio, si tratta di un segnale di supporto e vicinanza concreto nei confronti delle attività commerciali che usufruiscono del suolo pubblico, da noi auspicato e che speriamo venga preso ad esempio anche in altri comuni della Versilia. Il provvedimento nei giorni scorsi era stato sollecitato anche da Confesercenti, sia a livello territoriale che nazionale, con la richiesta, nel caso non si riuscisse ad azzerare l'imposta di erogare dei bonus a favore dei commercianti e degli ambulanti.